Posso anche ricevere fatture da altre partite IVA? Certo! Sarà sufficiente comunicare il codice destinatario Aruba KRRH6B9 ai tuoi fornitori e iniziare a ricevere fatture elettroniche direttamente sulla tua applicazione web. Il codice KRRH6B9 identifica Aruba come intermediario creditato presso il sistema di intrescambio ed è quindi uguale per tutti coloro che utilizzano il nostro software. Che cos'è il codice destinatario? Il codice destinatario è un codice numerico a sette cifre che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate agli intermediari tecnici accreditati come Aruba. È molto importante che i tuoi fornitori inseriscano il corretto codice destinatario altrimenti rischiaresti di non ricevere la fattura. Per evitare errori una buona prassia è quella di registrare il codice destinatario Aruba all'interno del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate seguendo le loro guide ufficiali. In questo modo la modalità di ricezione che tu inserirai verrà utilizzata come prioritaria indipendentemente da quello che il mittente della fattura indicherà come indirizzo telematico. Sarai tu in questo modo a controllare la correttezza del tuo recapito. All'interno dell'applicazione inoltre potrai visualizzare l'area Fatture ricevute in cui ti saranno notificate tutte le fatture ricevute delle quali verrai avvertito anche per PEC. Tutte le fatture elettroniche ricevute verranno automaticamente poste in conservazione come richiesto dalla normativa. Penseremo noi a questo delicato passaggio senza che tu debba fare niente. Adesso che sai come ricevere una fattura, passa al prossimo video per saperne di più.